Il Bocale torna alla vittoria casalinga, una vittoria che mancava da 5 partite, con questi tre punti probabilmente la salvezza è ipotecata, comunque quasi raggiunta. Sì, diciamo che ancora qualche punticino ci serve da fare, ma sicuramente rigiocheremo tutti come abbiamo giocato questa di oggi, con questa intensità, tenendo presente che poi c'è stato un calo nel secondo tempo che ci fa un po' preoccupare in questo senso. Comunque tre punti importanti, tre punti che ci possono dare lo slancio giusto, vediamo di incrementare nelle prossime partite. A segno nel primo tempo Barbui e Rucazze, i due attaccanti, forse l'assenza, l'infortunio di Postorino ha trasmesso un po' in tutta la squadra, ma in particolare ai compagni del reparto d'attacco una maggiore responsabilità, hanno giocato uno straordinario primo tempo, si trovavano anche occhi chiusi. Sì, sì, nel primo tempo è stata una bellissima partita da parte nostra, abbiamo giocato con grande intensità, con pressing a tutto campo e via dicendo. Comunque il risultato era quello che contava e quello che a noi interessava di più. E poi alla fine ci siamo riusciti. Il secondo tempo il Gallico Catone è venuto fuori, ha trovato il rigore, ha sfiorato anche il pareggio. Gallico Catone che ha le carte in regola per potersi salvare? Sì, sicuramente sì, vedendo le squadre che ci sono in giro non ci piove, non ci piove che il Gallico Catone è una squadra che è molto attrezzata per questo e alla fine si salverà. Allora mister, un buon Gallico Catone, un ottimo Gallico Catone che però non è riuscito ad agguantare il pareggio, ha sfiorato la rimonta, colpito nel primo tempo in cui ci sono stati pochi episodi da una parte e dall'altra, forse nelle migliori occasioni avute dal Bocale. Questo un po' forse avete un po' risentito di questo nel finale di tempo, nella ripresa però avete reagito bene, l'avete riaperta. Diciamo che abbiamo regalato il primo tempo, mettiamola così, l'approccio con la gara è stato pessimo, direi che non siamo proprio scesi in campo al primo tempo, molti disimpegni sbagliati, due gol subiti in maniera molto frivola diciamo con la palla nostra, non c'eravamo, un approccio sbagliatissimo con la gara e quando approcci male in questi campionati il secondo tempo a volte può bastare ma non sempre riesci a fare le rimonte, ci è già riuscito una volta, oggi siamo andati vicini però non puoi sempre andare a rincorrere perché poi per di la tranquillità, nonostante abbiamo fatto un buon secondo tempo sicuramente, però non è bastato. Un buon secondo tempo dal quale ripartire probabilmente per andare a caccia di quei punti che potrebbero consentirvi di evitare i play out perché per quello che sta dimostrando in queste settimane il Gallico Catona ha le carte in regola per potersi salvare senza passare dagli spareggi? Sì, però se non siamo accompagnati dalle vittorie purtroppo questo diventa difficile, è una squadra giovane, è una squadra che si distrae facilmente e a volte aspetta di prendere lo schiaffo prima di reagire, questa è la cosa che non va bene in queste categorie, bisogna giocare sin da subito. Loro è una squadra esperta, è una squadra che effettivamente in due occasioni ci ha punito e poi ha quasi sempre badato a amministrare la partita con disimpegni, disimpegnandosi quasi creando mai nulla verso il nostro portiere, se non qualche ripartenza concessa sempre da noi. Bisogna ripartire da questo, bisogna cercare di fare più punti possibili, poi alla fine tireremo le somme. Va invertito forse il trend in trasferta, questa è la sesta sconfitta consecutiva fuori casa, mentre in casa perlomeno i risultati stanno arrivando, soprattutto da quando è arrivato lei due vittorie in due uscite davanti al vostro pubblico, magari in casa che potrete costruire ancora di più la salvezza. Sì, diciamo che da due partite a due trasferte sono quelle che magari posso valutare, quelle dove ci sono io, una a Scalea dove abbiamo fatto benissimo, non meritavamo assolutamente di perdere, è una partita totalmente diversa da quella di oggi, oggi invece al primo tempo abbiamo meritato di subire, lì a Scalea onestamente no, avevamo fatto noi la partita giocata bene, oggi sono un po' deluso per il primo tempo, perché se non approcci bene con queste gare l'approccio è mezza partita, quindi alla fine è importante fare punti e bisogna fare anche qualche punticino fuori casa, a volte anche non perdere non sarebbe male.